Il Comune di Favara interrompe l'alpalto con la società AIPA SPA che dall'aprile 2007 gestisce per lente il servizio di accertamento, liquidazione e riscossione delle entrate tributarie. La risoluzione contrattuale è stata deliberata dall'Aggiunta Mancanella sette mesi prima rispetto al 14 aprile 2013, deciso con l'atto deliberativo numero 1 della stessa amministrazione comunale. Tra i motivi che hanno spinto Sindaco d'Assessori a chiudere con AIPA le riscossioni degli agi spettanti che la società avrebbe aumentato comunicando al Comune il relativo aumento solo a cosa avvenuta. Inoltre dal Comune addebitano ad AIPA altri provvedimenti adottati non conformi alle disposizioni contrattuali che avrebbero penalizzato i contribuenti. Per questo motivo, oltre alla risoluzione contrattuale per colpa, l'amministrazione comunale di Favara ha dato incarico all'avvocato Angelo Cacciatore del Foro di Palermo di tutelare l'ente sia in sede giudiziale che extra giudiziale. Come cambia il sistema di riscossione dei tributi locali? Il sistema cambia così come abbiamo promesso in campagna elettorale, così come è stato scritto nel nostro programma elettorale. E cioè a dire dalla gestione privata affidata a terzi, si passa ad una gestione diretta fatta quindi dai dipendenti del nostro Comune che consentirà innanzitutto ai nostri concittadini di risparmiare quantomeno l'agio che adesso e finora è andato a favore dell'AIPA. Quantifichiamolo in denaro? Ma in denaro intanto l'AIPA aveva tre tipi di agio che andavano dal 3,28% fino ad arrivare al 13%. Però purtroppo abbiamo assistito che questo agio è stato unilateralmente modificato dall'AIPA aumentando notevolmente l'agio a loro favore e quindi facendo pagare di più alle comune di Favara, quindi incassando più soldi l'AIPA.